Il governo Renzi ottiene la fiducia, il Movimento 5 Stelle si sfalda al Senato, se ne vanno in nove. I civatiani del PD sono tentati da una presa di distanza. Intanto sul territorio Fiat ridefinisce la cassa integrazione in provincia di Frosinone, annuncia che sarà molto meno pesante. Il consorzio industriale di Frosinone si dota di un nuovo presidente, mentre la Uespa pungeca tutti. Ne parliamo in questo numero di apporte aperte. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. È imprenditore, gestisce una delle più antiche aziende provinciali nel settore del trasporto, persone e allestimento, veicoli industriali. Guida gli artigiani della provincia di Frosinone e da qualche giorno è stato chiamato alla presidenza del Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone. Benvenuto al presidente, Giovanni Proia. Grazie a voi. Giornalista, prima per il tempo, ora per il Corriere dello Sport, direttore del mitico Corriere di Frosinone, il primo nel 1984 a pubblicare su un giornale un articolo di chi vi parla. È lui il responsabile. È l'autore del vocabolario del dialetto Frosinate, del libro C'era una volta il pallone, del romanzo Iniziazioni. È l'anima del giornale satirico La Uespa. Benvenuto ad Amedeo Di Sora. Grazie, Alessio. È consigliere regionale del Lazio, capogruppo Udc. Sabato e domenica ha guidato la pattuglia Ciociara al congresso nazionale dell'Unione di Centro. I voti sono stati fondamentali per eleggere Lorenzo Cesa alla segreteria. Benvenuto all'onorevole Marino Fardelli. Buonasera, buonasera amici a casa. Esperto di macroeconomia, per anni pilastro dell'ufficio pianificazione della Banca Nazionale del Lavoro, consigliere economico del ministro delle finanze Vincenzo Visco. Per non dover rinunciare alla carica di sindaco di San Donato, Valcomino, ha rinunciato all'incarico di consigliere di gabinetto che gli era stato proposto dal presidente del Consiglio Enrico Letta. Benvenuto al sindaco Antonello Antonellis. Buonasera. La linea sms per i vostri commenti, le vostre domande, le vostre considerazioni, 331 12 456 25, ripeto 331 12 456 25, nessun costo aggiuntivo a quello del normalissimo messaggio, quello che ci fa più piacere e che questa volta i messaggi sono cominciati ad arrivare addirittura prima dell'inizio della trasmissione. Via Twitter, l'hashtag come sempre è a porte aperte, cominciamo dalle notizie dell'ultimo momento, il Movimento 5 Stelle si frantuma, se ne vanno in nove unendosi con il senatore Marino Mastrangeli di Cassino, potrebbero fare addirittura un gruppo autonomo in Senato Antonellis, la democrazia dal basso non funziona? Ma quella non è un esperimento di democrazia dal basso, lo diceva ieri bene il Presidente Renzi, la forza politica che si candida e chiede il consenso, diceva un consenso basso come nel Movimento 5 Stelle, ha poi l'obbligo di dare una risposta politica a quella richiesta che viene dai cittadini. Loro avevano la possibilità di incidere enormemente, ricordo l'anno scorso al momento in cui si aprirono le trattative per la formazione del governo Bersani, ci fu tutta quella sceneggiata parte di Grillo ripetuta adesso con Renzi, credo che quello non è un partito, lì c'è uno che decide per tutti, non è vero che uno vale uno, lì c'è uno, vale per tutti, è l'inevitabile quello che è successo. Quali scenari ci saranno adesso per il governo Renzi? La situazione è più in discesa, saranno nove voti che andranno a sostenere il governo Renzi, secondo lei? Beh, è chiaro che questo suo movimento al Senato porta a una facilitazione per il governo per quanto riguarda i numeri, io immagino che questi senatori debbano fare una scelta di confrontarsi con le proposte, poi possano approvarle o meno, ma si aprirà un confronto serio. Credo il governo Renzi, in realtà il suo vero ostacolo è la ripresa economica, è lì che si gioca tutto. Lei di fatto non ha accettato l'incarico che le era stato proposto dal Presidente del Consiglio Letta perché avrebbe dovuto rinunciare all'incarico di Sindaco di San Donato, però di fatto ha lavorato per Enrico Letta, ha avuto un incarico anche di natura politica, lei ha sondato una parte del Movimento 5 Stelle, che idea se ne è fatto? No, io ho rinunciato perché il decreto di Monti, il 105, vieta chi ha responsabilità politiche in organi esecutivi, come il Sindaco e anche di un piccolo centro, c'è di fatto una incompatibilità, la legge parla chiaro per i comuni superiori a 15 mila abitanti, ma la Corte dei Conti lo estende anche ai comuni inferiori. Mi pareva logico, mi pare logico, dover portare a termine il mio mandato, anche se scade a maggio prossimo, sono 10 anni, però per rispetto dei direttori di San Donato che mi hanno votato, dei cittadini che mi hanno dato il loro consenso, di portarli fino alla fine, quindi di anteporre le questioni, come dire, il rispetto di quel consenso piuttosto che di interessi personali. Con Enrico, con il Presidente Letta, ho un rapporto personale da tantissimi anni, in odoro di questo, credo che sia stato per me un ottimo Presidente del Consiglio, poi la storia la valuterà, adesso si gioca molto su questo. Oltre che amico personale di Letta è esponente del PD, secondo lei nel metodo, per il modo in cui è arrivato a Palazzo Chigi, ha sbagliato Renzi? O in politica ci sta tutto, anche il colpo sotto la cintura? In politica potrebbe starci tutto, anche il colpo sotto la cintura. Credo che forse potesse, nell'interesse di Renzi e anche del Partito Democratico, fare questo passaggio dopo una consultazione elettorale dove ci fosse stata una vera legittimazione politica. La situazione cronos, appena battuta, sono ottimista che si possa ricucire con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno annunciato la volontà di dimettersi. Il Movimento ha tutte le carte per recuperare lo slancio, anche in un momento non felice come questo. L'ha appena affermato la DN Cronos, il senatore Nicola Morra, allontanandosi dall'Assemblea in corso a Palazzo Madama. Marino Fardelli, cito una frase detta in questa trasmissione. La prima volta che c'è stato un esperimento di democrazia diretta, Cristo è finito in croce e Barabba invece è stato liberato. Non funziona la democrazia diretta? Potrebbe anche funzionare, soltanto che assistiamo in questo momento, dal momento che è arrivato al governo del Paese Italia, una persona che come si definisce lui, così come ha detto sia al Senato sia alla Camera, una persona che si è formata tra la gente, tra i cittadini, con l'esperienza all'interno del Palazzo Vecchio di Firenze per dieci anni. ha cercato di intercettare forse un malcontento proprio che nelle scorse politiche è stato ancora prima intercettato dai 5 Stelle. Che cosa è successo domenica scorsa al vostro congresso nazionale? Solo un inciso. Abbiamo assistito, almeno dal dibattito emesso sia al Senato che alla Camera, che c'è Renzi che si è posto sullo stesso livello dei 5 Stelle, nello stile, nel linguaggio, in tutto. Infatti anche nelle dichiarazioni poi emerse dai 5 Stelle, in certo qual modo si è anche sconfinato e è venuto a mancare anche quella plob un po' istituzionale. Insomma, 5 Stelle sono stati sfidati da Matteo Renzi. Cosa è successo sabato e domenica? Che il nostro partito UDC è andato al congresso, Lorenzo Cesa ha vinto contro il candidato di Casini, contro il ministro D'Alia e non è poco questo. Ed sono risultati fondamentali i voti della provincia di Frosinone. Noi con 9 delegati abbiamo espresso all'unanimità il nostro voto a favore di Lorenzo Cesa. Cosa ha vinto per 8 voti, ricordiamo? Per 7 voti. 7 voti. E i nostri 9 voti sono risultati determinati. Chi decide adesso la linea del partito? Perché Casini ha detto io vado con Berlusconi. Casini ha detto che andava con Berlusconi 15 giorni fa, ancora prima dello svolgimento del congresso. Adesso Cesa è legittimato da un mandato democratico del congresso. Adesso le trattative, gli incontri e quant'altro sono tutti definiti da Lorenzo Cesa che è il nostro segretario. Presidente Proia, ma in un quadro politico nel quale di fatto c'è un presidente del Consiglio che aveva detto no, no, faccio solo il segretario di partito, non mi interessa fare il premier, poi a distanza di un mese si ritrova a Palazzo Chigi, dove se c'è dissenso all'interno del partito si viene messi all'agonia mediatica, poi espulsi. Di fatto una delle principali forze di questo Parlamento comincia a sfaldarsi. Dove un leader, il fondatore di un partito detta la linea prima ancora che si tenga il congresso che poi però a distanza di 15 giorni lo sconfessa. Voi i prenditori siete fiduciosi per il futuro? Ma è una scommessa difficile insomma, però se non ci fosse la fiducia non faremmo impresa, insomma già nel fatto stesso di fare impresa c'è una buona dose di fiducia e forse di incoscienza. Sicuramente noi abbiamo l'esigenza di avere un interlocutore governativo che sia veramente credibile, che faccia, che cerchi di sburocratizzare quelle cose che oggi ci attanagliano maggiormente. Renzi è credibile? Ma Renzi almeno nelle sue dichiarazioni così ufficiali si è manifestato con una grande apertura verso il mondo dell'impresa, sia per quanto riguarda la credibilità verso la riduzione del cuneo fiscale, che è un argomento a cui siamo molto sensibili, non perché vogliamo avere più soldi, soprattutto perché noi facciamo impresa e anche nella nostra legittimità c'è quella di guadagnare, però abbiamo dei costi e dei lacci che ci impediscono lo sviluppo delle nostre attività, perché il costo del lavoro mediamente è del 15% più alto della media europea. Più credibile Renzi o più credibile Letta? Io dicevo prima al nostro amico Antonellis che per noi non è importante se il gatto è bianco o è rosso, l'importante è che mangi il topo, l'importante è che alla fine faccia quelle cose che sono necessarie per le attività che noi svolgiamo, per l'impresa e per far aumentare i consumi, perché noi rischiamo adesso che oltre alla depressione, alla crisi nella quale siamo piombati, venga l'inflazione, una stagflazione che alla fine genera una situazione di mancata ripresa e nella quale difficilmente potremmo inserirci come impresa e come sistema paese in generale. Consorzio di sviluppo industriale, cosa cambierà adesso con la sua presidenza? Fondamentalmente molto poco, perché anzi voglio approfittare di questa opportunità per ringraziare il Presidente Zeppieri che ha avuto una grande sensibilità personale a lasciare nonostante non fosse dovuta le dimissioni che lui ha rimesso e la mia candidatura è stata fatta nel segno della continuità dell'attività che Zeppieri già aveva svolto e che noi continueremo a svolgere. Anche lì c'è da registrare che è necessario avere una sinergia grande delle istituzioni, del mondo della politica e avere quantomeno la possibilità di far ripartire le potenzialità e lo sviluppo di questa provincia, di questo territorio. Amedeo Di Sora, di fatto abbiamo indicato l'attività giornalistica, l'attività da scrittore, l'attività poi forse quella un po' più divertente, questo periodico che esce nel periodo di Carnevale a Frosinone. Prima di entrare nel dettaglio del numero del 2014, ma di fatto fa più ridere il Carnevale o fanno più ridere determinati politici che stiamo vedendo in questa situazione così particolare? Sicuramente i politici. Io apprezzo l'ottimismo del Presidente. E' guai se non lo fosse, giustamente. Chi fa impresa deve essere necessariamente politico, deve essere necessariamente ottimista. Il Presidente sa benissimo che eredita una situazione molto pesante, sia sotto il profilo politico che sotto il profilo della funzionalità, assumendo la carica di Presidente che ha avuto di recente. La situazione è molto seria, la situazione è molto ingarbugliata. a me Renzi, io non sono del PD, non sono di sinistra, lo premetto, a me Renzi con quella sua area da un po' da bulletto di provincia e un po' guascone, in un certo senso fa simpatia per carità, però io ho seguito con molta attenzione le sue dichiarazioni di intenti, i suoi discorsi sia alla Camera che al Senato, mi sembra che abbia sciorinato agli italiani a noi cittadini di Serie B, poi ti spiego perché noi siamo cittadini di Serie B, un libro dei sogni, intanto… Non credi nel programma che ha presentato la Senata Camera? Io sulle buone intenzioni di Renzi ci credo, io spero che sia convinto almeno lui di quello che dice, però ci sono tanti però, i soldi dove li va a prendere, è venuta fuori questa storia della Cassa Depositi e Prestiti, ma era venuta fuori prima anche quando c'era il governo Letta e essendo il sindaco Antonellis un suo consulente di carattere proprio economico, penso che forse lui ce la saprà spiegare. Voglio dare una risposta, intanto ci sono dei lanci d'agenzia assolutamente interessanti, 5 Stelle, Tacconi, esco dal gruppo della Camera, comandano solo Grillo e Casaleggio, intanto tre minuti fa, nuovo centrodestra, Quagliarello è stato eletto coordinatore del partito, Di Maio nel 5 Stelle, Tacconi se ne va è perché non vuole rendicontare le spese, cominciano i veleni, Tacconi precisa, io lascio, 5 altri deputati stanno valutando, sms 331-12-456-25, cominciamo a vedere i vostri commenti da casa e le vostre sollecitazioni per i nostri ospiti, il Movimento 5 Stelle è stata una delusione, dovevano cambiare l'Italia e invece mi sembrano l'assemblea del mio condominio. Renzi è arrivato al potere fregando tutti, adesso voglio vederlo all'opera, dite a Grillo che questo è il nostro movimento e non il suo, buon lavoro signor Renzi, novello pifferaio magico e ora facci vedere dove prendi i soldi per realizzare tutto quello che dici. Intanto oggi i lavoratori Electrolux non li ha incontrati, buon lavoro Presidente Proia, finalmente un po' di pulizia anche all'Asi. Fardelli, l'Udc si spacca? Anche 5 Stelle è una fregatura, non è il partito dove uno vale uno, ma il partito di Grillo per farsi i fatti suoi. Mettere te mano alla divisione dei beni tra Asi e Cosilam, basta con i carrozzoni, è sufficiente un solo ente per le aree industriali. Ma per risanare l'Italia, come si dice, ma perché non si adoperano i soldi confiscati alla mafia, che sono tanti ma tanti? Onorevole Marino, se è la nostra speranza la ciociaria vuole rispetto. Allora, partiamo proprio dalla considerazione che ci proponeva Amedeo Antonellis. In pratica, da esperto di macroeconomia, ma i soldi per fare tutto quello che dice Renzi ci sono e dove si possono andare a prendere? Intanto faccio una premessa, qui non è un dualismo, una gara tra Letta e Renzi. C'era una fase politica nuova, questo governo Renzi è il governo del Partito Democratico. Questa è una premessa che credo sia importante. Anzi, è la prima volta che forse il Partito Democratico può mettere in campo una sua chiara visione del sistema economico, del sistema produttivo, perché noi siamo stati parte delle coalizioni più ampie, con Lulivo, con Prodi. Adesso è la prima volta che il segnato del Partito assume l'incarico in prima persona. Quindi ha una condizione politica diversa da quella di Letta. Alcune riforme sono anche a costo zero. È inevitabile. Occorre un clima politico che Letta non aveva, invece Renzi ce l'ha, perché sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista della prospettiva politica, sia dal punto di vista della volgenità dell'azione in Parlamento, questo gli è consentito per fare cose che Enrico non ha potuto fare. Prima considerazione. Secondo aspetto. In realtà il governo Letta ha messo in sicurezza i conti, anche con grossi sacrifici per le famiglie. Noi eravamo sul baradro. Molto spesso gli italiani dimenticano quello che c'era, quello che è successo tre mesi fa, sei mesi fa. Non dimentichiamo che noi siamo stati quasi commissariati dall'Europa col governo Berlusconi. Dobbiamo ricordare a tutti la lettera dell'agosto del 2013, del 2011, scusate, dove di fatto ci obbligavano a fare delle cose perché la nostra situazione finanziaria era peggiore di quella della Grecia. I dati che sono usciti l'altro giorno, su quanto riguarda la crescita del PIL, noi cresciamo come la Grecia. Quindi non dimentichiamo che siamo in una situazione di difficoltà vera. Dove si prendono i soldi? C'era anche quell'SMS che diceva perché non si prendono i soldi confiscati alla mafia che sono così tanti. Lì sono circa 980 milioni di euro che già il governo ha messo, il governo Renzi, le prime dichiarazioni che ha fatto il ministro Poletti, era utilizzato per la riduzione di quello che è il problema degli esotati, verano utilizzati per risolvere, sono 980 milioni. Aspetta il direttore che poi, dove si prendono i soldi? Allora in primo luogo c'è la possibilità di una spending review vera per quanto riguarda i costi dello Stato e Cottarelli la sta mettendo in gatto. C'è un tesoretto che viene fuori dalla diminuzione dello spread, parliamo di circa 8-10 miliardi di euro. C'è la possibilità anche di una ripresa. Noi abbiamo chiuso il 2013 con una riduzione del nostro PIL dell'1,9. Adesso la Commissione Europea certifica che riguarda il 2014 si paventa la possibilità di una crescita dello 0,6 del PIL. Quindi anche lì parliamo di miliardi che possono essere messi in campo. È chiaro che la prospettiva di Renzi è una prospettiva di 4 anni. Investire 100 miliardi è nell'arco di un periodo di 80-100 miliardi di 4 anni. Non è che domani mattina Renzi è in grado di fare riforme per 80 miliardi. Magari ci fosse questa possibilità. Adesso dobbiamo mettere in campo riforme per 10-15 miliardi nel corso di questo anno. Aspetti che finiscono in questo ragionamento. Quindi questo è la prima... Dopodiché io credo che... Facevo una riflessione che diceva il nuovo Presidente dell'Asia, il venditore Proia, che poi è anche Presidente del CNA, e credo che il suo ruolo fondamentale è che il mondo era artigianato. Le nostre imprese devono essere messe in condizioni di poter lavorare. Questo sicuramente è un problema legato alla dinamica del mercato del lavoro internazionale. Però non dimentichiamo che noi... C'è questo tentativo di buttarla, dico così, alla caciara, contro la classe politica. Guardate che sotto la politica, poi c'è l'uomo solo, c'è il dittatore, noi queste esperienze le abbiamo vissute. La classe politica italiana non è imperiore a quelli di altri paesi, perché la Germania... C'era una perplessità che aveva Amedeo? No, perché evidentemente mi sono espresso male io. Bassalini ha detto che ci sono 60 miliardi da mettere in gioco. Ora Renzi questi 60 miliardi li vuole utilizzare e li vuole utilizzare subito, proprio per favorire le aziende rappresentate dal Presidente Proia. Perché se questa gente lavora con le pubbliche amministrazioni, però non viene pagata e deve fallire, perché è lo Stato che non salda le fatture e non gli dà i soldi che sono legittimamente dovuti. E' chiaro che noi non avremo mai quel tipo di ripresa. La mia domanda era, Bassalini però ha detto anche che questi soldi erano a disposizione della Cassa dei Presidi e Prestidi, non di Bassalini, erano a disposizione anche di Letta. Voi avete in sede intervenuti, il governo Letta è intervenuto pagando una parte dei debiti pregressi, però poi ad un certo punto vi siete bloccati, perché? Ecco la domanda, io per questo tentavo di interromperla. Perché molto spesso si dà una cattiva informazione. Scusi Sindaco, io non voglio demonizzare la classe politica italiana per carità, perché c'è anche di peggio in giro, però mi consenta pure di dire una cosa, c'è anche molto di meglio. Non vendiamo al mercato le aureole, perché almeno fino a quel che è successo fino ad oggi, almeno negli ultimi vent'anni, non ve le meritate. Io le do subito due risposte. La prima, credo da Sindaco, qui dentro sono il più grande esperto, da Sindaco, dal sindaco del piccolo paese, di come succede il rimborso dei soldi, perché non è soltanto lo Stato e i debiti. In realtà la parte terminale sono i comuni che devono pagare. Allora il Comune accende un mutuo, quindi lo Stato non è che gli dà i soldi all'impenditore Proia. Lo Stato obbliga i comuni a fare un mutuo con la Cassa dei Depositi e Presti, dove il Comune paga l'interesse per pagare il debito che il Comune ha con l'impenditore Proia, che li deriva dal fatto che la Regione ne ha dato un finanziamento e non gli dà i soldi. Deriva dal fatto che lo Stato ha promesso i soldi alla Regione per fare quel finanziamento e noi gli ha dato i soldi, quindi l'ultima ruota del carro sono i comuni che sono obbligati a fare un mutuo e pagare gli interessi su quella somma per un debito che l'origine c'era lo Stato. Quindi questo è il meccanismo, primo. Quindi i soldi non li tira fuori nessuno, in pratica? No, i soldi il Comune deve indebitarsi. Il mio Comune va in anticipo di Cassa perché pago gli imprenditori e quindi vado in anticipo di Cassa. Dopodiché lo Stato mi obbliga di fatto a fare il mutuo per coprire i debiti che vanno sulla piattaforma del Ministero. Quindi voi non ve li manda nessuno? No, noi dobbiamo fare un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Questa è la facilitazione. Fai un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti che va oltre la leva di bilancio possibile per i muti, quindi vanno fuori dalla leva. Fai un mutuo che tu paghi regolarmente i tassi di interesse della Cassa Depositi e Prestiti e paghi gli imprenditori. Ma adesso sembra che il sistema... E su questo l'abbiamo utilizzato... No, no, poi dopodiché l'utilizzo... Anche su questa roba qui, i 60, gli 80, i 100 miliardi che è la cifra che adesso ancora non si riesce a capire quanto è il debito reale perché su quella roba lì è un magma indefinibile. I 100 miliardi non sono immediatamente utilizzabili perché c'è un problema del rapporto deficit-pill dell'Europa. Cioè quel debito che viene lì dalla Cassa Depositi e Prestiti non è che può andare Renzi e li prende. In primo luogo c'è questo meccanismo del mutuo. Dopodiché la Cassa Depositi e Prestiti non li può mettere nel circuito degli enti pubblici, dei comuni quindi pagare i nostri 100 miliardi perché altrimenti noi superiamo il 3% del debito del rapporto deficit-pill. Cioè i 100 miliardi sono a disposizione però non si possono utilizzare perché c'è il patto di stabilità. Allora se noi riusciamo a superare il rapporto deficit-pill con l'Europa il 3% si possono utilizzare i 100 miliardi. Altrimenti bisogna centellinarli. Noi l'anno scorso il governo Letta per stare dentro al rispetto del patto vi ricordate quella vicenda di Saccomanni 3,01, 3% l'1% parliamo di 7-8 miliardi era la possibilità o meno di utilizzare quei fondi perché quei fondi hanno fatto sforare dello 0,5 perché il nostro deficit-pill reale era dello 2,5. pagando 30 miliardi di rimborso di rimborso all'impresa il nostro è andato al 3% quindi c'è un problema di stare all'interno dei patto non è che uno la mattina va ci sono degli obblighi comunitari. Ho capito, allora Bassalini ci ha venduto una palla che non finisce mai. No, ma io vi dico quello che succede. Bassalini parla dei 15 giorni. Guardate, quello che sta succedendo è certo. Il problema è vero. Bassalini ha detto qui si stanno 60 miliardi in 15 giorni le mettiamo nel gioco. La cassa è certa in un momento. Viviamo alle banche loro con i crediti privilegiati e garantiti da lo Stato vanno alle banche e incassano e poi si farà nuovamente un muro. Scusatemi un secondo provo a fare la sintesi perché stiamo utilizzando dei termini che a casa non utilizzano abitualmente. Allora, partiamo da rapporto deficit-pill che diceva il sindaco Antonelli. In pratica, per poter stare in Europa ed evitare che i conti facciano acqua da tutte le parti quindi che i paesi di tutta l'Europa i singoli paesi che compongono l'Unione Europea abbiano dei conti sani è stato stabilito un principio cioè ci deve essere un rapporto ben preciso tra quanti soldi entrano e quanti soldi escono dagli enti pubblici quelli che si possono impiegare. No, diciamo che il rapporto di GTP va a calcolare il rapporto che c'è tra la ricchezza totale dello Stato e la spesa corrente. Questo rapporto non deve superare il 3% anno questa è la soglia messa è possibile superarlo nel momento in cui ci sono delle situazioni contingenti che devono essere autorizzate dalla Commissione Europea altrimenti tutti i paesi devono stare sotto il 3% questa è la condizione fondamentale altrimenti si viene come dire attenzionati adesso c'è questo termine cioè la Commissione Europea apre una procedura di infrazione contro il governo lo Stato che supera questo rapporto e li scattano nelle multe comunitarie la riduzione dei finanziamenti comunitari per quanto riguarda ad esempio i fondi comunitari per gli investimenti quindi c'è una serie di penalizzazioni se non si raggiunge benissimo quindi i soldi che ha annunciato Renzi per pagare i debiti della pubblica amministrazione da dove vengono ci dice il Sindaco Antonellis vengono semplicemente dal fatto che noi comuni cioè quelli che dobbiamo pagare veniamo e la regione gli enti pubblici sono autorizzati a fare un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti che funzionerà come se fosse una banca in pratica fa notare Amedeo Di Sora beh allora di fatto i soldi non esistono ci ha detto chi governa la Cassa Depositi e Prestiti ecco qua ci sono 60 miliardi è vero che ci sono ma ci sono a condizione che il comune possa indebitarsi e possa pagare quell'interesse dico bene? Allora i soldi ci sono i comuni hanno in qualche modo anche l'obbligo perché altrimenti il creditore potrebbe fargli il pignoramento quindi hanno di fatto l'obbligo di fare il mutuo a carico dei cittadini l'altro passaggio l'utilizzo totale di quella somma di pagare 100 miliardi per non superare il 3% occorre che lo Stato italiano riesca a chiedere alla Commissione Europea una deroga per il superamento del 3% perché se vanno nel calcolo il 3% del rapporto deficit bill noi paghiamo i debiti però poi come dire creiamo un altro danno perché andiamo sotto una procedura di imprezzione e vengono tagliati i fondi di trasferimento all'impresa per quanto riguarda gli investimenti quindi il passaggio è completo nel senso ci sono i soldi i comuni hanno di qualche modo l'obbligo però per utilizzare tutta quella somma ma i soldi arriveranno o no? i soldi allora l'anno scorso sono stati pagati 30 miliardi di euro 27 miliardi di euro adesso arriveranno altri 2-3 miliardi io credo che viste le procedure dall'esperienza da sindaco ripeto è un modesto comune ma le procedure sono uguali io credo che entro quest'anno un'altra 30-40 miliardi è possibile pagarli quindi a fine 2015 questa è la grande sfida di Renzi lo Stato è in grado di annullare i debiti i suoi debiti io credo che al Senato lui abbia detto non voglio sbagliare ho seguito la diretta al Senato mi pare che abbia detto entro il 2015 non voglio sbagliare però entro il 2015 dice azienderò i debiti che lo Stato ha nei comprondi Sindaco c'erano gli sms dobbiamo dargli risposta Presidente Proia metterete mano alla divisione dei beni tra Asi e Cosilam basta con i carrozzoni è sufficiente un solo ente per le aree industriali diceva un altro messaggio faccio anche qui la sintesi ci sono due enti che si occupano delle aree industriali qual è il compito dell'Asi qual è il compito del Cosilam uno si occupa delle aree industriali nel nord della provincia l'altro nel sud se viene un imprenditore che ha bisogno di un'area industriale ebbene l'assegnazione gliela fa o l'Asi o il Cosilam a seconda di dove si trovi l'interesse di questo imprenditore i depuratori i servizi per le imprese che si trovano nelle aree industriali se ne occupano i consorzi di sviluppo industriale fino a qualche anno fa in provincia di Frosinone c'era solo il consorzio Asi quindi il consorzio che oggi è preseduto da Giovanni Proia da qualche anno c'è stata la divisione per una volontà regionale in base a una legge regionale nel sud c'è il Cosilam c'è il problema dei beni tra l'uno e l'altro ente perché il Cosilam è nato ma l'Asi non gli ha trasferito i beni di fatto chiede questo messaggio metterete mano alla divisione dei beni tra Asi e Cosilam o non ci sarà nessuna divisione? ma non è esatto quello che diceva direttore praticamente l'Asi non doveva trasferire nessun bene e questa cosa qualcuno ha ironizzato anche sul discorso di investitura che io ho fatto in questo senso dicendo che era il cavallo di Proia ha scherzato dicendo che praticamente noi abbiamo chiaramente detto che vogliamo favorire lo sviluppo del territorio in tutte le sue forme non c'è interesse se ci sia un consorzio al nord o al sud della provincia e nemmeno vogliamo metterci in competizione perché se no l'onorevole Fardelli lo sa meglio di tutti alla fine la regione ci commissaria e si fa il suo consorzio regionale e noi siamo tutti tagliati fuori dalla logica di sviluppo e di assegnazione del territorio l'Asi come il Cosilam hanno principalmente una competenza che riguarda la localizzazione la individuazione delle aree e lo sviluppo del territorio industriale è chiaro che questa cosa non può essere depauperata in questi termini perché togliere una grande infrastruttura e attribuirla solo per criteri territoriali andando a sconvolgere il bilancio di un ente al discapito di un altro significa chiaramente scioglierlo o non dargli le risorse per poter sopravvivere quindi io sono prontissimo ad affrontare tutte le discussioni in questo senso in sede regionale nelle sedi opportune dove si dovranno affrontare però non possiamo spogliare Gesù per vestire Maria come si dice normalmente anche perché ci sono problemi molto più seri di questo trasferimento provo a fare un esempio se c'è un depuratore che è stato costruito nel Cassinate a servizio delle imprese venne costruito dall'Asi lei dice noi solo perché si trova nel Cassinate non è detto che lo dobbiamo trasferire al Cosila ma visto che l'abbiamo costruito con soldi che erano dell'Asi un bilancio un patrimonio non mi danno niente ma qui non è che si tratta di parlare di cittadini di Frosinone o di Cassino assolutamente direttore non riduciamo adesso diciamo una serata in cui possono uscire anche dei suggerimenti da chi vive il territorio ancora meglio di noi io dico questo Antonello Antonello bene al sindaco Antonelli bene che si parli di grandi numeri cosa farà Renzi cosa farà adesso il nuovo ministro però riportiamo anche la discussione su quello che è quelle che sono le difficoltà che viviamo in provincia di Frosinone il governo vive una difficoltà come Regione Lazio ne viviamo un'altra noi non riusciamo a bandire opportunità per i comuni per far ripartire anche diciamo degli investimenti e questo perché ovviamente viviamo delle difficoltà che sono legate a un grande tema che da qui a tanti anni e anni addietro ci ha coinvolto che è quello legato al debito della sanità abbiamo fatto abbiamo avuto uno sblocco con il decreto 35 circa 5 miliardi di euro che lo Stato ci ha trasferito alla Regione per poter pagare le amministrazioni le aziende le industrie e pagare diciamo anche le ditte le società che hanno lavorato all'interno del territorio regionale ma oggi c'è un problema vero non riusciamo a mettere a bando un investimento questo perché stiamo ancora cercando all'interno della Regione Lazio di capire su che cifre ci dobbiamo muovere e ovviamente i comuni vanno in sofferenza perché tanti comuni ci sono della provincia di Frosinone che non riescono a far partire un lavoro pubblico perché addirittura hanno tra virgolette il rischio di vedersi anticipare dei soldi per poi non ritornare in tempo utile addirittura pagando anche delle tra virgolette degli interessi su quel lavoro già avviato allora scusate un secondo c'è già una marea di messaggi su quello che avete appena detto e ci sono ulteriori sollecitazioni selezioniamone una parte sul Cosilam però Cosilamasi è soltanto un inciso qui non è un problema Cosilam oasi tra Frosinone e Cassino una guerra come qualcuno cerca di far passare assolutamente io penso che le due governance che oggi appunto il management delle due società che gestiscono il territorio nord e il territorio sud debbano in certo qual modo incontrarsi e definire anche delle politiche industriali che ovviamente sono diverse perché riguardano un territorio diverso dall'altro però diciamo anche la verità oggi si cerca di far passare i due enti come De Carrozzoni io non la vedo così anche perché non è che vivono di soldi regionali assolutamente tantomeno bisogna far passare l'idea che uno solo risolve tutti i problemi anche perché in provincia di Latina esistono stesso due consorsi industriali uno sul Latina e uno sul sud della provincia quindi non è che c'è guerra tra di loro e tant'altro deve esserci una guerra tra Frosinone e Cassino io non la vedo così assolutamente non la riduciamo come guerra vediamo gli sms 331 12 456 25 poi vediamo quanti minuti abbiamo prima della pubblicità allora selezioniamo in una parte dei messaggi allora cari politici dovete capire che dietro le quinte di Renzi c'è ancora D'Alema e Prodi ci hanno messi per terra la sanità è una cosa seria l'ospedale di Sora è un marasmo onorevole Fardelli aiutaci che cosa ne pensano le persone in studio della crisi dei gestori di benzina strangolati da compagnie e concorrenza delle pompe bianche Proia ritiene giusto che i soldi che vi danno le aziende del Cassinate voi li investite nel nord della provincia se tanti criticano Renzi allora riesce a fare qualcosa onorevole Fardelli siamo operai esterni al Cotral il signor Zingaretti ci prende in giro da circa sei mesi noi siamo disperati con riduzione degli orari gli stipendi sono dimezzati cosa sta succedendo sindaco Antonelli se lei che è sindaco di un comune socio del Cosilam non pensa che sia un danno economico e ingiusto che l'ASI gestisca beni nell'area del Cosilam investendone i guadagni in un altro territorio allora dovremmo avere due minuti Presidente Proia su queste considerazioni che fanno insomma lei prende i soldi dalla Cassinate e li investe nel nord della provincia non è così insomma assolutamente non è così perché non è che le aziende contribuiscono le aziende contribuiscono a pagare dei servizi che gli vengono prestati quindi non è che qualcuno dà soldi ad altri e ci sono questioni di promiscuità di questo tipo poi non vengono investiti perché noi non siamo un ente economico che fa attività propria noi viviamo soltanto di quelle che sono le provvidenze che vengono dalla regione o dai vari enti che contribuiscono a creare infrastrutture e servizi per il territorio non ci sono noi non facciamo attività economica noi facciamo soltanto attività di promozione sia di territorio che di servizi legati al territorio e questo vogliamo continuare a fare quindi non prendete soldi da una parte della provincia per investirli nell'altra Onorevole Fardelli le chiedevano sulla situazione del Cotral lei sta seguendo questa avvertenza? Assolutamente sì da quando mi sono insediato ho cercato di portare avanti delle situazioni riguardo ai trasporti sia su gomma sia su rotaia stiamo cercando appunto di definire un nuovo assetto di quello che è il trasporto su gomma all'interno della regione Lazio e l'idea che almeno sulle linee guida e su questo chiede il conforto anche di Proia visto che è del settore del trasporto pubblico locale l'idea è quella di definire un'unica società tra Cotral Cotra Patrimonio e tra Astral questa è l'idea di fondo che si cerca di portare avanti per questi lavoratori che dicono Zingaretti ci sta prendendo in giro ci sono delle prospettive domani mattina ecco subito mi attiverò affinché si possa dare una risposta sul territorio anche perché non è possibile assolutamente che quello che stiamo vivendo in questi giorni in queste settimane a parte che vanno a fuoco diversi mezzi del Cotral è un grande punto interrogativo quello che sta succedendo nella nostra provincia guarda caso e poi alcune corse sono o soppresse o c'è un fuori servizio o non passa il pullman Cotral ovviamente con tante difficoltà da parte degli utenti degli studenti dei viaggiatori e quant'altro anche perché Cotral dovrebbe ben capire che bisogna fare una sinergia con le società di trasporto pubblico locale perché io non posso tra virgolette essere portato io lo dico affinché ecco le società comunali di trasporto pubblico locale con Cotral e anche con Ferrovie si parlino perché oggi è stata sempre ridisegnata una mappa provinciale di Cotral senza tenere in considerazione quello che succede nei comuni e nei territori io prendo un mezzo arrivo in determinato comune e poi non mi vedo passare la circolare all'interno del comune stesso evidentemente qualcosa non funziona allora ecco da domani cercherò ancora con più sollecitazione di capire cosa Cotral intende fare all'interno del nostro panorama provinciale poi c'era un altro sms riguardo alla sanità diamo un attimo di tempo al nuovo direttore generale che appena si è insediata ha fatto una conferenza stampa l'altro giorno con i giornali i giornalisti della provincia di Frosinone ha tracciato quelle che sono le linee guida di certo però è una cosa quello che si è verificato quello che si verifica in tutti gli ospedali della provincia di Frosinone almeno quelli grandi che sono Frosinone Sora Cassino poi c'è anche quello di Anagni e quello di Alatri ovviamente questa cosa deve finire cioè noi non possiamo essere etichettati come un cittadini di serie B e con una sanità di serie B ci è stato detto per tanti anni che dovevamo patire dei tagli dovevamo subire a dispetto di Roma perché qui si tenta sempre di fare una politica romano centrica e però adesso insomma invertiamo un po' la rotta abbiamo dei poli di eccellenza abbiamo dei medici che sono veramente delle eccellenze nel nostro panorama provinciale abbiamo questi poli ospedalieri facciamoli funzionare basta vedere quei pronto soccorsi con quelle scene indegne nemmeno da terzo mondo mi dispiace per il terzo mondo che abbiamo siamo stati abituati a vedere nell'ultimo periodo oggi in asso sono stati al pronto soccorso di Latina dicono che però non hanno trovato irregolarità tranne il fatto che mancano dei medici la pubblicità il tempo di qualche spot un minuto e mezzo non vi muovete torniamo insieme e ripartiamo dal giallo e dal nero il colore della Vespa o alla frusinate della Vespa non vi muovete come sempre la parte più bella della trasmissione è quella che non vedete cioè durante la pubblicità devo proporre di farla registrare e di mandarle in onda la prossima volta vi faccio la sintesi allora in pratica Proia e Fardelli dicono no al dualismo asi-cosilam perché c'è tantissimo da fare e possono esserci vantaggi per entrambi soprattutto per l'intero territorio dice Antonello Antonelli se certo la politica ha le sue responsabilità ma anche l'imprenditoria ha le sue responsabilità per la mancanza della crescita scusate ma adesso rifacciamo un attimo la sintesi di quello che è stato detto durante la pubblicità perché era particolarmente importante asi-cosilam no al dualismo no allo scontro cos'è che si può fare insieme e quindi far crescere il territorio Fardelli telegraficamente io penso che ci siano tutte le volontà affinché le due governance possano in un certo qual modo dialogare durante la pubblicità è stato detto ci sono i finanziamenti per le start up ci sono le innovazioni vogliamo un attimo ricordare la regione cosa mette sul piatto che può arrivare sul territorio ci sono delle opportunità bisogna fare in modo che i territori il territorio tutto della provincia di Frosinone faccia sguara faccia quadrato attorno a queste opportunità e non se le faccia scappare altrimenti un po' con i finanziamenti europei un po' con altri tipi di finanziamenti noi perdiamo anche questo treno e poi ci piangiamo addosso ed ecco che la classe politica viene accusata allora cerchiamo in un modo o nell'altro di far dialogare le propone l'acquisto di alcune infrastrutture è fattibile non è fattibile l'acquisto di alcune delle infrastrutture assolutamente potrebbe essere ecco per esempio l'acquisto del depuratore da parte del Cosima ci sono circa 20 milioni cash che eventualmente il Cosima potrebbe offrire all'Asia affinché l'Asia poi possa rinvestire all'interno del proprio indotto all'interno della viabilità e quant'altro io penso potrebbe essere un'idea è un'idea questa è un'ipotesi quella di Fardelli che si può percorrere è percorribile si può fare le faceva anche l'esempio delle nuove tecnologie sicuro vi voglio dare una notizia in anteprima noi inizieremo i lavori della banda larga per i quattro comprensori industriali Anagni Frosinone Ceprano Pofi e Sora Isola Liri per cui inizieranno proprio i lavori materialmente c'è solo da da mettere il primo piccone a terra la prima pala meccanica insomma questa è una grande opportunità per l'impresa perché noi parliamo di cose materiali che hanno il loro valore si può discutere di tutto si può dare un valore a tutto e attribuire un valore anche al patrimonio però le ricchezze immateriali cioè la banda larga oggi rappresenta per un'impresa che vuole stare sul mercato un'opportunità grandissima perché noi possiamo parlare di tutto ma se per trasferire un catalogo se per trasferire un'idea di progetto un'idea innovativa non ci sono quando si fanno gli speed test io vedevo e si vede che la telecom qua nella nostra zona fa uscire a 6 mega 5 mega la velocità di trasmissione dei dati mentre ci sarebbe l'opportunità e l'obbligo da parte dei gestori delle reti di arrivare fino a 100 mega con 100 mega si può fare un catalogo e trasferirlo in Cina in India oggi il mondo è diventato globalizzato non è che gli altri solo sono capaci oggi io l'ho detto l'altra volta l'idea innovativa del pastore della Sardegna che aveva un branco di pecore e poi si è inventato adotta una pecora cioè lui ha trasferito l'idea del progetto di impresa che avrebbe potuto generare via internet si poteva adottare una pecora con quella pecora virtualmente adottata a fine anno si ottenevano i frutti di quella pecora quindi formaggio e latticini Antonellis diceva però guardate d'accordo la politica ha le sue colpe ma anche l'imprenditoria ha le sue colpe pure su questo territorio anche in questo territorio io faccio il ragionamento in 30 secondi poi la domanda che faccio a tutti a qui dentro ma ai spettatori ma conoscete per caso una famiglia ereditaria delle più grandi aziende americane Walmart piuttosto che IBM no in Italia noi abbiamo la famiglia Benetton la famiglia Agnelli la famiglia della Valle dove essere amministratori delegati di quelle società non ci si arriva per capacità o per bravura ma perché sono si nasce all'interno di quelle famiglie questa è la grave colpa storica del nostro capitalismo finora nell'analisi economica è stato detto questa è la forza del capitalismo italiano le grandi famiglie no alla fine si è visto che questa è la grande debolezza ci sono casi di imperi che sono scomparsi nel nulla c'è chi goli perché c'è la necessità che le aziende siano scalabili che le grandi aziende hanno una funzione sociale dice la nostra costituzione cioè non è possibile che RCS la più grande casa editrice italiana venga gestita con un patto parasociale fra 3-4 grandi famiglie che col 20% bloccano il sistema anche per le imprese di questo territorio c'è questo rischio? l'impresa sul territorio io dico che c'è la grande forza delle nostre imprese sul nostro territorio di fare imprese perché noi viviamo in un territorio che è molto penalizzato rispetto a altre realtà perché siamo in un contesto morfologico totalmente diverso è più facile fare imprese a Treviso piuttosto che a Cosinone per la vicinanza alla Germania per la vicinanza a un mondo della cultura noi abbiamo avuto la fortuna e anche la sfortuna di avere questo grande stabilimento della Fiat che è stato onnivoro di tutte le nostre capacità il nostro tessuto produttivo ha pagato anche in questi tempi a noi è scomparsa l'agricoltura che era una grande ricchezza abbiamo creato questa categoria socio-economica del metal mezzatro che non era né metal meccanico come era nella Torino negli anni 60 dove hanno creato la Fiat né l'agricoltura della bassa patana che è tra i primi posti del mondo abbiamo creato questo ibrido da noi dove c'è questa commissione? io la domanda che mi faccio è che faccio ma voi pensate che la classe venditoriale non abbia espresso la classe politica qui in Italia la storia degli ultimi 60 anni era questo Matteo su questo territorio ha fatto più male la politica o l'industria? io faccio un'altra riflessione così anche provocatoria ma vi risulta che qui Andreotti qui da noi prendeva il 90% dei voti adesso non c'è più nessuno che alza la mano e dice io ho votato Andreotti Andreotti era l'espressione di quel sistema politico e venditoriale forse il sistema venditoriale prima che politico della nostra provincia era un sistema da condannare Amedeo? no io non sono molto d'accordo con l'analisi del sindaco Antonellis anche per quanto riguarda l'imprenditoria generale perché ci sono state anche grandi famiglie che sono uscite di scena ma non per fallimenti ma proprio per le cosiddette scalate che qui faceva giustamente cenno lui per quanto riguarda poi le responsabilità le responsabilità secondo me sono di chi ci guida quindi io metto al primo posto in fatto di responsabilità la classe politica e se poi vogliamo scendere nel particolare la classe politica che ha governato questa provincia ha delle non grosse ha delle grossissime responsabilità e continua ad averle l'intera classe politica ma sì sì non abbiamo saputo esprimere una classe politica ormai assolutamente assolutamente io spero in un in un ricambio generazionale il ricambio generazionale poco tempo fa l'abbiamo avuto però abbiamo espresso un franco fiorito sì sì ma sai poi le eccezioni fanno parte della regola non io mi rifiuto di credere che alla Pisana c'è qui un esponente che poi siano tutti fioriti io spero che siano ce ne siano molti che siano sfioriti insomma non fioriti direttore posso riflettevo su questa cosa che diceva il presidente Proia ma noi in Sardegna che è molto più difficile fare impresa perché è un'isola i manuali di economia sono chiari è molto più difficile fare impresa in un'isola piuttosto che sul territorio lì è nato a Tiscali è nato in un'isola aveva conquistato l'Europa una delle prime imprese di telefonia e di internet di internet privato perché non è nata non c'è stata un'impresa in pediatria della nostra provincia la Tutsi è nata a convine tra la Puglia e la Basilicata in una zona dove non è il dorato dell'economia piuttosto ci sono altre esistenze perché quella realtà è nata lì piuttosto che qui io forse dico che qui c'è una responsabilità fortissima della classe politica sicuramente di tutta la classe politica ma c'è un'altrettanta responsabilità della classe imprenditoriale perché non è stata capace di fare impresa perché si è vissuto sulla convivenza non ha avuto il coraggio ma anche perché ha vissuto bene sulla rendita della politica perché la rendita del finanziamento dell'appalto dell'economia protetta diciamo la cassa del mezzogiorno cassa del mezzogiorno un'economia protetta non concorrenziale si è chiusa e non ha dato lo slaggio casomai all'imprenditore che aveva l'idea innovativa che qui non è nata noi siamo qui guardate noi abbiamo una grossa responsabilità su questo perché noi siamo a 100 km da Roma e da Napoli cioè in queste due città metropoli vivono il 10% della popolazione però gli imprenditori non hanno avuto coraggio ma io dissento da questa impostazione perché ognuno ha la sua parte di responsabilità e nessuno si deve sottrarre a questa parte di responsabilità è indubbio però io ho il mio concetto della democrazia della politica e della democrazia in senso imprenditoriale penso che prima di tutto vengono gli uomini vengono se c'è una responsabilità che l'impresa non è cresciuta a sufficienza non è solo una responsabilità degli imprenditori se c'è scarsa democrazia all'interno delle grandi imprese e se questo non è un fenomeno scalabile nella rivista Fortune in America che fa l'elenco delle prime 100 imprese che sono presenti nel mercato americano le cambia ogni 25 giorni ogni 30 giorni quindi questa mobilità del capitalismo noi non l'abbiamo avuta perché il nostro capitalismo mi è piaciuta molto la definizione del metal mezzatro cioè che il nostro capitalismo è stato un capitalismo fatto di grandi multinazionali che sono venuti qui che non hanno creato un grande tessuto imprenditoriale noi pensiamo alla Glob pensiamo alla Fiat pensiamo alla Videocon certo è chiaro che poi queste imprese quando non hanno creato quel tessuto di impresa a cui si sono io provengo da una famiglia di imprenditori che sono la terza generazione di imprenditori non mi vergogno di essere imprenditore anche avendo fatto grossi sacrifici perché li ha fatti la mia famiglia all'inizio e li continuo a fare io il problema è che il tessuto imprenditoriale cresce se ci sono condizioni di favore per la crescita se ci sono condizioni di sburocratizzazione se noi per avere una licenza di lizia qui impieghiamo mediamente otto anni se per avere un procedimento giudiziario mediamente impieghiamo per avere un decreto ingiuntivo quattro anni non è colpa di nessuno se noi abbiamo difficoltà è colpa della magistratura non è colpa del sistema non è colpa nostra non è colpa degli imprenditori un paio di settimane fa a Cassino il ministro Dalia il nostro governo le riforme le ha fatte per sburocratizzare poi però per attuare quelle leggi serve un decreto di attuazione che devono scrivere i burocrati mi sembra un po' una follia come se invitassimo alla festa del 4 luglio in America il tacchino cioè quello al quale bisogna tirare il collo facciamo la legge per sburocratizzare ma per attuarla ci mettiamo in mano i burocrati il fatto stesso delle imprese che la gestione dei centri per l'impiego non voglio polemizzare per carità però l'approccio che c'è al mondo del lavoro e la difficoltà di questo articolo 18 che è un falso problema perché qui le imprese non crescono perché alla fine non c'è mobilità sia in entrata che in uscita nel lavoro queste cose sono disperazioni ataviche che le imprese affrontano da tempo però diceva Antonelli quello che dice il presidente Proia è vero però credo che è una riflessione che ha fatto a monte di quello che succede oggi quando io parlo di un sistema economico che è stato bloccato e che non ha permesso e che forse ormai siamo in ritardo per la ripartenza perché ormai ci sono nuovi soggetti nuovi player internazionali c'è la Cina c'è la Russia ci sono i paesi l'India i paesi che ormai hanno un tasso di crescita che ci mangeranno vivi utilizzo questo brutto termine le nostre industrie rischiano Crizia l'ha comprata una che era un'operaia cinese 20 anni fa adesso ha comprato Crizia perché faccio queste riflessioni dove c'è una commissione ma la vicenda Alfa Romeo è imprimatica perché c'è la commissione della classe imprenditoriale e della classe politica perché gli Agnelli hanno obbligato allora il governo a non vendere l'Alfa Romeo alla Ford perché per evitare che ci fosse un concorrente in casa però ricordate quella vicenda di Pomiliano d'Arco l'altra grande vicenda di questi ultimi giorni è la L'Italia cioè noi abbiamo mantenuto un carrozzone di 5 miliardi di euro che abbiamo speso ai Dio vi ricordate i capitalisti di Berlusconi che erano i grandi italiani abbiamo mantenuto quella roba lì quando uno può prendere l'aereo qualsiasi tipo di aereo per girare il mondo non serve essere una compagnia di bandiere io ricordo la Swiss Air fallita anni fa adesso è rinata un'altra compagnia svizzera che funziona meglio di quella di prima perché? per non permettere ad altri di intervenire sul nostro mercato ma di questi esempi sono tantissimi quindi lì non è l'ultimo esempio British Telecom British Petroleum è andato via dalla Puglia dopo aver speso 800 milioni di euro l'ha detto l'ha trovato via perché per le licenze ma lì non è colpa della classe politica non gli era dato le licenze anzi la responsabilità della classe politica è quella di non averli dato tutte le necessarie autorizzazioni perché Lenin non voleva è chiaro? cioè non è che la classe politica ha un potere assoluto e gli altri c'è una commissione di debolezze tra classe politica dove le responsabilità sono al 50% che rendono anche debole tutto il sistema a metodo di Sora giallo e nero la Uespa facciamo vedere la copertina del numero di quest'anno che è già in distribuzione a Frosinone allora è tutta nafrana intanto chi non è sulla Uespa in genere si offende perché è un periodico satirico dove punge e molte volte fa male per le battute davvero al vetriolo però esserci significa avere un ruolo nella società di questo territorio intanto come scegli chi può essere pungicato dalla Uespa e soprattutto come fai a scegliere poi i vari temi visto che questo territorio ne offre ogni giorno allora per motivi pratici chiaramente la Uespa si occupa soprattutto del cavoluogo Frosinone ma non perché io non vorrei interessarmi anche di altri comuni sarebbe impossibile abbiamo dei riferimenti di personaggi di un certo livello anche di comuni vicini ma maggiormente la Uespa bisogna fare la storia di questi giornali subito dopo la guerra nel 46 incominciarono ad uscire questi giornali che erano fatti erano realizzati da personaggi che non è che fossero molto acculturati c'era un falegname c'era il mio parente che faceva il ferroviere eccetera e quindi ovviamente scrivevano come sapevano scrivere in dialetto non dimentichiamo che la lingua italiana deriva dal dialetto fiorentino che era più diffuso nell'epoca quindi il mezzo per comunicare era il dialetto ancora oggi in alcune zone si parla in dialetto e hanno incominciato a scrivere questi fogli che con la scusa di fare questa lettera al generale Championet era il modo per sollecitare le autorità locali ad affrontare determinati problemi nasce su questo filone infatti la Uespa che ha conservato la sua originale testata dice ti pungica ti gonfia perché pungendo ti ti gonfia nendacite esce solo quando è aulonata aulonata nel senso di quando è arrabbiata e quindi la Uespa infatti l'articolo di fondo è rivolto al sindaco invece di bruciare l'emblema del generale Championet alla fine del carnevale venissero venissero dato fuoco all'emblema di qualche politica locale forse si sentirebbe un po' più chiamato in causa e un po' più stimolato ma sei cattivo adesso il sindaco ti risponde sei cattivo nel senso che il carnevale è un'altra cosa questo è un giornale che ormai è diventato una tradizione è il primo numero è uscito nel 1945 e questo giornale lo ha inventato un cugino o un parente lontano di mio padre che si chiama Giuseppe Alessio di Sora che è forse il più raffinato poeta in vernacolo insieme ad altri che sono bravissimi mi viene in mente adesso Paolo Colapietro eccetera e poi quando io nel 1960 finì nella relazione del tempo questo signore ripetendo che io fossi un grado soggiornalista era appena entrato alla relazione del tempo mi disse pare mi chiamava Varend dice dammi una mano a fa soggiorno e io ho incominciato a collaborare con lui poi purtroppo lui è venuto a mancare perché era una persona anziana e il numero prima della sua morte mi disse la nostra redazione la redazione della Uespa era in corso della Repubblica su quella panchina che c'è davanti al cinema e Celsior io l'aspettavo lì perché lui veniva da Roma viveva con una figlia a Roma veniva da Ligola Circolare scendeva dalla stazione alla Circolare e poi metteva fuori dalla giacca un pacco di appunti scritti anche su quella carta paglia che lui mi dava tutti questi appunti eccetera eccetera e io poi dovevo andare alla tipografia Zirizzotti che già da allora la tipografia Zirizzotti stampava la Uespa e dovevo sistemare di questo giornale che era fatto quattro foglietti ma è capitato che qualcuno si sia offeso sul serio sì sì soprattutto i colleghi caro Alessio allora i giornalisti è una categoria molto molto particolare allora i giornalisti diciamolo molto francamente rompono le scatole 365 giorni l'anno a tutti e non si non è che si fanno mancare nulla però poi quando sono loro ad essere presi di mira sono un po' per Malosetti no ha battuto a parte in effetti ho avuto qualche problema però ti posso garantire che io non ho avuto mai una querela io non ho avuto mai qualsiasi problema c'è stato un periodo in cui la Uespa era il diciamo il punto di riferimento di diverse mogli le quali mi telefonavano per dirmi scusa ma tu hai fatto questa battuta su mio marito potrebbe significare questo ma sai qualche cosa quanti matrimoni hai salvato negando l'evidenza ma assolutamente ma per carità e poi tu lo sai il segreto professionale oltre oltre alla serietà della persona che lo fa e oltre alla Uespa io citavo nella presentazione sei l'autore del vocabolario del dialetto Frusinate ecco io di questo di questo sono molto orgoglioso di questo libro e io se ho scritto questo libro in un certo senso lo debbo a mia moglie che è qui che ci sta seguendo qui nello studio eravamo in vacanza a Montesilvano e un giorno presi una rivista che comprò mia moglie mi ricordo Anna, Anna Bella e lessi un grosso reportage dove c'era scritto che ogni anno nel mondo scompaiono 200 lingue idiomi soprattutto piccoli idiomi eccetera siccome io facevo la Uespa ho detto ma io c'ho una certa età ma quando mi muoro io sa Uespa chi la fa anche perché esisteva una sorta di vocabolario che ha fatto il cavaliere Peruzza però un vocabolario che fosse completo nel senso che c'era la grammatica perché la fatica più grande è stata quella di fare la grammatica di realizzare una grammatica del dialetto frusinate perché va detto con chiarezza che il dialetto è una lingua molto complicata noi siamo a 91 comuni esistono 91 dialetti non solo all'interno di ogni dialetto esiste il dialetto parlato e il dialetto scritto non solo c'è quello che viene scritto e parlato in città e quello che viene scritto e parlato in campagna e in campagna c'è il fatto che c'è una commistione con termini di comuni limitrofi per cui è una cosa veramente molto molto complicata quindi io volevo fare un piccolo perché molti mi chiedevano a Frosinone e a Frosinati ne sono rimasti pochi quindi mi avevano chiesto ma sta Vespa però a leggere è difficile è complicata non si capisce perché non fai un vocabolario e io volevo fare un vocabularietto proprio da legare alla Vespa fare però sono uno studioso di queste cose io devo dire sono un appassionato e poi mi sono posto il problema della grammatica e devo dire che è stata un'opera importante perché poi l'ho corredata di un bel album fotografico ci ho messo tutti i nomi e i soprannomi che mi sono venuti in mente ci ho messo tutti i nostri detti particolari perché cercando di spiegare però che cosa significa se io ti dico sacchi che ma ci sei di porca ma non posso parlare tu a orecchio intuisci se ti dico se fatti gli accatti da Maria Cazzetta ma non sai chi è Maria Cazzetta mentre questa Maria Cazzetta veramente è vissuta è un personaggio esistito certo chi è per esempio si è fatta la fine di cucombre di rene è chiaro che dal nome da come lo dici si intuisce che tu hai fatto una brutta fine però io spiego chi era queste rene perché si dice così e ho cercato di fare questo libro di cui sono veramente molto soddisfatto anche se c'è un aspetto comico in questo libro lo dico proprio perché c'è qui l'onorevole Fardelli io mi disse mentre stavo facendo questo libro mi disse ma guarda che c'è una legge regionale fatta da Storace all'epoca della presidenza Storace dove ci sono dei finanziamenti per favorire io tutto contento dico ma era male dico piglio una lira e mi sono informato eccetera capitolo da zero sì non c'è una lira hanno fatto la legge hanno fatto l'ufficio hanno fatto il presidente di questo settore direttore vice direttore segretaria eccetera eccetera però non c'è una lira questo mi ha detto guardi mi mandi il libro lei ha fatto un'opera meravigliosa per carità ma non abbiamo il soldo da dare però la legge non è stata dinanziata allora gli ultimi sms 331 12 456 25 vediamo dobbiamo essere assolutamente telegrafici e traremo le conclusioni su questi messaggi allora Fardelli non credi che abbiamo perso una buona occasione di rilancio rieleggendo Cesa e non De Poli ho l'impressione che adesso iniziamo di nuovo a fare un po' di qua e un po' di là Proia perché il Cosilam che è nato dopo molti anni dall'Asi vive senza i beni contesi mentre l'Asi se li perde deve chiudere l'ha detto lei Onorevole Fardelli alle ultime elezioni non l'ho votato ma è da un po' che la seguo e devo dire che i suoi interventi sono da ammirare complimenti è l'unico politico della provincia che si impegna per i veri problemi del territorio Marco D'Alatrio l'impressione che Renzi perda punti man mano che lo si conosce meglio tutto fumo e poco arrosto grazie a Medeo quello che la classe politica ha creato a Frosinone è a dir poco disastroso e si continua nel nostro comune grazie a tanti Fiorito stiamo così ma sembra che nessuno prenda i giusti provvedimenti viva la Uespa se non ci fosse bisognerebbe inventarla le strade regionali sono un colabrodo con tanti pericoli basta questo governatore e peggio della Polverini un telegramma su queste considerazioni Fardelli in merito alle strade provinciali e regionali noi siamo stati convocati dal commissario prefettizio noi eletti della provincia di Frosinone per la prossima settimana facciamo un po' il punto della situazione un altro aspetto su cui vorrei tranquillizzare gli amici a casa ci stiamo battendo affinché da giugno in poi la tratta ferroviaria Cassino Roma venga annoverata non più soltanto per i disagi che quotidianamente vive ma anche con alcune migliorità che porteremo all'attenzione appunto a breve su questo ci stiamo lavorando e mi sto impegnando quindi ci saranno novità su questo dobbiamo andare a concludere sindaco Antonelli solo impressione carenze perda punti man mano che lo si conosce tutto fumo e poco arrosto diceva l'SMS secondo lei visti da dentro ma no credo che questo sia il solito gioco italiano di buttare a macero senza conoscere bene le esperienze e quello che succede aspettiamo risultati come dire bisogna avere fiducia io lo dico nell'interesse del mio partito ma credo nell'interesse dell'Italia se Renzi fa bene credo che tutti quanti dobbiamo sperare che lo faccia perché è nell'interesse dell'Italia credo che sia l'ultima carta in questo momento dopodiché credo che ci sia il disastro istituzionale non è il disastro di una nazione politica il disastro di una nazione Proia ancora un messaggio che cercava di mettere contro ASI e Cosilam la proposta Fardelli l'ha fatta lei? allora io non ho detto che l'ASI chiuderebbe se ci fosse la divisione del patrimonio e nemmeno esiste questa ipotesi noi abbiamo una storia abbiamo una situazione di bilancio che è quella che è quindi io non sono in condizione attualmente di fare nessuna valutazione né in senso positivo né in senso negativo di queste cose se ne dovrebbe parlare in maniera molto più specializzata articolata e approfondita cioè non ha senso fare enunciazioni così accademiche senza costrutti e senza cose che hanno un significato concreto poi per quello che riguarda le altre attività noi svolgiamo un'attività di carattere veramente di assistenza per le imprese le imprese hanno necessità oggi di avere una viabilità che è però nella quale noi non possiamo intervenire perché noi ci occupiamo solo dal punto di vista dell'urbanistica dell'assegnazione ci occupiamo di quello che riguarda per quello che riguarda i c'è un futuro per le imprese di questo territorio ma il futuro per le imprese del territorio c'è se si creano delle condizioni di competitività perché se noi non competiamo e non abbiamo oggi il mercato si è fatto globale quindi non discutiamo più di Frosinone di Cassino oggi discutiamo di mercati che sono oltreoceano di mercati europei io volevo spendere una parola per quello che diceva l'onorevole Fardelli prima è necessario che si faccia un discorso sulla spending review serio perché non si può prescindere dall'adottare costi standard sia per quanto riguarda la sanità per quanto riguarda i trasporti per quanto riguarda la gestione economica in più un'altra questione fondamentale che non va ad inficiare niente ed è necessaria per le imprese quella della certificazione dei crediti perché se parlavamo prima del 3% dello sforamento dei debiti del rapporto tra PIL e deficit ci sono crediti certificabili che le imprese hanno nei confronti della pubblica amministrazione come la regione come lo Stato e i comuni che possono essere certificati e sono esigibili e i quali la Cassa Depositi e Prestiti attraverso una sua società di factoring che è la Sace Factoring può dare immediata attuazione per queste cose cioè l'unico problema è che noi per prendere i soldi nostri che ci devono dare da un anno dobbiamo pagare il 5% di interesse lo vogliamo anche pagare però basta che ce li diano basta che ve li diano dobbiamo chiudere Amedeo credo che forse il messaggio più gratificante sia viva la Uespa se non ci fosse bisognerebbe inventarla certo io invito chiaramente abbiamo potuto parlarne poco invito chi meglio così andranno a comprare la distribuzione nelle edicole di Frosinone è martedì quindi è nelle edicole di Frosinone e di molti comuni della provincia anche grazie Amedeo Di Sora grazie ai nostri ospiti grazie a voi a casa Porta Aperte torna tra una settimana stessa ora stessa rete arrivederci grazie a tutti